Benissimo la domenica facendo grandi risultati. I secondi due anni con la pandemia sempre bene, chiaramente la pubblicità è calata ma non per colpa sua. Il terzo biennio... Per tutti sarà calata. Per tutti, quindi lì non c'è problema. Il terzo biennio, Ciletti ha fatto una cosa sbagliata che ha un po' subordinato al rinnovo di contratto. Dice io rinnovo il contratto ma non voglio più stare la domenica, che era il suo giorno, e voglio andare il mercoledì. Tutti a dirgli io, il direttore di rete, tutti quanti, ma guarda che cambiare giorno non è la cosa giusta, non lo fare, perderemo ascolto. Lui ha insistito, alla fine per rinnovare il contratto ha detto va bene, ok, ti metto il mercoledì. Il mercoledì ha perso due punti di share, lui stesso ha capito di aver sbagliato e a febbraio ha accettato di andare la domenica, ma non ha più recuperato i due punti. E questo è stato un problema, perché poi i due punti vogliono dire pubblicità vogliono dire tante cose. Però ecco, scusami per metto, ma ecco non è l'arena, è un brand importante della rete che quantomeno è entrato nell'immaginario dei telespettatori, mancavano nove puntate alla fine di stagione e tutto sommato fa una media del 5,5, non è che gli altri programmi fanno il 15%, siamo là un punto in più, due punti in più. Perché questa fretta dal giovedì alla domenica e soprattutto ha colpito? Che lei non ha dato una spiegazione, perché chiude un programma importante con questa velocità. Non era fretta, perché noi con Giletti e con il suo agente, Gianmarco Mazzi, parlavamo agente o non agente, lui adesso dice che è amico, ma comunque sia, con Mazzi, noi parlavamo da gennaio e io a gennaio ho spiegato a Giletti che per gli ascolti che stavamo facendo e per la pubblicità che raccoglievamo il costo del programma era veramente insostenibile. Ne abbiamo parlato a gennaio, quando vidi la prima volta Mazzi, poi ne abbiamo riparlato con Giletti a metà febbraio. Loro mi dicevano che non è possibile ridurre il costo per vari motivi. Alla fine io ho pensato che non saremmo andati avanti e allora tanto valeva forse chiuderla anche un po' prima. Ma così un po' traumatica, no? Nove puntate dalla fine della stagione. Sì, va bene, ci sta, però insomma io ho ritenuto che fosse giusto così.